Che effetto fa a stare in testa da soli dopo una partita praticamente perfetta? Praticamente perché al primo minuto abbiamo sofferto un po', ma è sempre buono essere di là, al top della classifica, perché è più facile lavorare e le giocatori hanno più fiducia nelle cose che facciamo. Parlare di fuga è presto ovviamente, anche se il Milan è già a meno 5. No, per me è troppo presto. È chiaro che il campionato è lungo, siamo contenti di essere dove siamo, ma penso che dopo due o tre mesi si verrà meglio dove ciascuno e sarà più facile valutare tutto questo. Si può parlare di piccola rivincita anche per lei, visto tutti i dubbi all'inizio della stagione, si parlava di questa interi completa, si parlava di lei che era completamente diversa da Mourinho? No, veramente no. Per me è sempre una sfida con una squadra di qualità come questa, farlo bene. Io sono un allenatore che mi piace lavorare, mi piace fare le cose, ma soprattutto ho molta fiducia nel mio lavoro e nella mia capacità e ho visto la qualità dei giocatori. È chiaro che se abbiamo il staff tecnico a qualità, i giocatori hanno qualità, la squadra, la società è una società forte, sempre si può fare meglio. Cosa è successo nel momento del secondo rigore? No, chiaramente due giocatori che vuole tirare il rigore, Eto'o Milito, per me tutti e due può farlo. Oggi Eto'o che ha fiducia, ha preso la pala, la prossima volta vediamo con Milito. Zanetti come sta, mister? Sta bene, dobbiamo aspettare sette giorni, ma sta bene. Non c'è da preoccuparsi? No, penso di no, penso che con questo tempo di riposo starà bene. La gente si è innamorata veramente, forse oggi per la prima volta non pensa più, come diceva il collega, al precedente allenatore. La gente si è innamorata dei giocatori perché l'hanno fatto bene. No, aspetto di no, aspetto di no. Ci sono un sacco di donne anche. No, chiaramente le tifosi le piace la squadra, si gioca bene, si lavora e le giocatori l'hanno fatto bene. E sempre dico lo stesso. Siamo di là, possiamo aiutare, qualche volta disturbare, ma oggi se il giocatore vuole sarà sempre facile per me. Le tifosi saranno contento con loro. E vado perché la ultima sono tre.